Da un grande potere derivano grandi responsabilità e io penso che noi creativi pubblicitari siamo un po' come Peter Parker, abbiamo un grande potere e quindi abbiamo la grande responsabilità che deriva dal nostro grande potere. Qual è il nostro potere? Parlare alle persone, cioè le cose che un'agenzia, un creativo scrive per un cliente che lo approva, che mette soldi, ha una potenza che io non posso sottovalutare. Quindi devo cercare di usare questo potere per migliorare, per quanto possa essere possibile e per quanto possa essere accettabile per quel brand, per quella marca, senza uscire dal seminato perché sennò si scende nel ridicolo, migliorare il nostro mondo, la nostra società, ognuno un pezzo alla volta. Ciao a tutti, nuova puntata di Vidence, ci siamo riscambiati un po' le posizioni, abbiamo con noi oggi, e grazie per essere qui, Francesco Bozza, Vice President e Chief Creative Director di Great Italia, ma soprattutto papà di Barspot, che è un bel progetto culturale. Bella questa cosa del progetto culturale. Sì, io non ce l'hai rimanito venduta così. Rivendila così, progetto culturale. Innanzitutto grazie dell'invito, ufficialmente vi dico che chiedo che sia la prima volta che faccio un podcast, ho fatto un sacco di roba e non ho mai fatto un podcast. Dopo ci dici anche come ci si sente. E grazie dell'invito, sono contento. Bene, io dicevo progetto culturale perché poi parleremo un po' Barspot, in realtà è stato anche più cose, prima di arrivare allo Zelig, ci racconterai tutto, però è un progetto che ha al centro una roba su cui tutti lavoriamo e che però mi ha fatto piacere perché ti prendi anche da un punto di vista un pochino diverso. Cioè qui si parla di pubblicità, ma si parla anche di quello che può essere il valore della pubblicità, il valore culturale, il valore storico, come cambia anche la nostra vita. Prima di lanciarti il domandone, perché ci devi fare il pippone su che cos'è la pubblicità, mi piacerebbe, così le persone a casa vedano anche un po' di che cosa si sta parlando, far vedere un po' che cos'è Barspot e come parli tu di pubblicità. Ci abbiamo un filmato, ci abbiamo un filmato, agevoliamo il filmato. Allora, pubblicità ha fatto anche delle belle cose, eh. 1907, i produttori di arance della California hanno un problema enorme, nessuno compra più le arance. E allora si rivolgono a un famoso pubblicitario, eccolo qua, Albert Lasker. Sembra Guglielmo Marconi, ma vi assicuro che era un genio, un po' come Guglielmo Marconi. Albert Lasker li ascolta, loro vogliono una campagna per convincere gli americani a mangiare più arance. Lui li ascolta, prende appunti e quando se ne vanno, se ne sbatte le balle. Non ha nessuna intenzione di fare una campagna per convincere gli americani a mangiare più arance. Lui farà una campagna per convincere gli americani a consumare più arance. E c'è una bella differenza, perché si rende conto che se tu l'arancia la mangi, ne mangi una. Ma se tu l'arancia la spremi, ci vogliono tre arance per riempire un bicchiere. E allora cosa fa? Presenta a quelli del consorzio questo annuncio pubblicitario. Bevete un'arancia. Albert Lasker, pubblicitario, è l'uomo che ha inventato il succo d'arancia. È un'idea creativa, ragazzi. Prima non c'era, non esisteva il succo d'arancia. Finiamo così, poi le persone lo vengono a vedere. Allora, l'uomo che ha inventato il succo d'arancia, a me questo è estratto, insomma, mi è piaciuto tantissimo perché questo è, la pubblicità cambia la vita delle persone. Certo. Allora, Bar Spot, che cos'è questa roba qui? Cioè, è il primo spettacolo, dico il primo perché fa figo, però mi sono informato, non credo esista. È il primo spettacolo teatrale basato sulla pubblicità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho la mia passione, io lavoro in pubblicità da 25 anni, è stata la cosa che ho sempre voluto fare fin da quando ero piccolo, ma mi sono accorto di una cosa, che è un mondo che si parla, parla a se stesso, non parla agli altri. Eppure la pubblicità è ricchissima, questa è la dimostrazione, di storie. Noi oggi viviamo nell'epoca dello storytelling, tutto è storytelling, la copertina di un disco è storytelling, un omicidio è storytelling, tutto è storytelling. La pubblicità non lo è, perché la pubblicità sconta un po' ancora quella cosa che ti vuole fregare, ti vuole vendere qualcosa, cioè, sì è vero, ti racconto questa cosa, ma in realtà ti voglio vendere il succo d'arancia, non mi interessa vendere il succo d'arancia, e stiamo parlando di una cosa accaduta nel 1900. C'è un valore in questa storia. La pubblicità è ricchissima, più di quanto possiate immaginare, di queste storie. Io cosa faccio? Le conosco, conoscendole, le racconto, ma le racconto davanti a un pubblico. Quindi con un assetto da stand-up comedian. Se ci pensate, la stand-up, a differenza del cabaret, la stand-up tu porti sul palco te stesso, racconti delle cose come se fosse una chiacchierata. Esattamente quello che faccio io su un palco storico, che è quello dello Zelig, ma lo faccio non davanti a una platea di studenti di comunicazione o di direttori marketing, poi magari faccio anche quello, ma parlo proprio dello Zelig, lo faccio davanti a una platea di persone che sicuramente sono appassionate della comunicazione, della pubblicità, che sicuramente hanno a che fare con questo mondo, ma lo spettacolo comincia alle 9 di sera e tu alle 9 di sera non stai lavorando. Alle 9 di sera magari hai una famiglia, hai degli amici e i tuoi amici magari non fanno la pubblicità, magari il tuo amico è un tassista, c'ha un'officina, quindi magari vai a teatro con loro, con i tuoi amici, con tua moglie, con i tuoi figli. E quando ti siedi e hai pagato un biglietto, hai pagato un biglietto per vedere un pubblicitario che parla di pubblicità, la tua mente si libera di tutti quegli orpelli che ti rendono la visione di uno spot pubblicitario una roba di uno che mi vuole fregare, mi vuole vendere qualcosa. Sgombi la mente e rimangono le storie. Se è uno spot divertente, ridi come davanti a una gag, se lo spot è strappalacrime, ti commuovi, no? Non pensi, va bene, questo è per vendere i fazzoletti, per vendere la mela, no, ti commuovi per il racconto, per la narrazione. Oppure se è una storia, non la vivi come una lezione di marketing, ma la vivi come vita vera. E quindi torni a casa e dici, cavolo bella questa cosa degli arance, ma ce ne sono tantissime di storie come queste, non necessariamente legate a intuizioni. Ci sono storie di come i creativi si sono portati a casa un cliente grazie a un'intuizione. Ci sono storie di registi, di famosi registi, che quando hanno approcciato la pubblicità hanno combinato dei disastri. Io cerco di raccontare più cose possibili all'interno di una scaletta e uso la pubblicità come filo conduttore. Visto che all'interno del pubblico dici c'è un po' di tutto, e quindi c'è sia dal direttore marketing ma dalla casalinga di Voghera. Secondo te, quelli che non hanno già in partenza questo amore per la creatività, come vanno a casa? Poi guardano in televisione lo spot e ne riescono a decodificare un pochino meglio il modus pensandi, o semplicemente proprio cominciano a apprezzare un pochino di più il film che vedono non pensando che sia solo un modo per essere fregati. Allora io faccio sempre l'esempio, ne parlavamo prima, no? C'è un omicidio, Cogne, a Vetrana, ok? Se tu dovessi cominciare a leggerti le carte processuali di quell'omicidio ti romperebbe le scatole dopo tre secondi. Uno è scritto in un modo che è difficile da comprendere, a meno che tu non sia un avvocato. E poi non è interessante, ma se quello caso te lo racconta Lucarelli, te lo racconta Stefano Nazzi, te lo racconta allora paura, allora diventa una narrazione, diventa uno storytelling. Non è necessario che tu sia l'abruzzone della situazione, che tu sia un criminologo o un serial killer, che così impari delle cose. Hai ascoltato una storia, una brutta storia in questo caso, e quando torni a casa quello ti deve rimanere, no? Indipendentemente che si sia parlato di un omicidio, di una biografia di un pilota morto durante una competizione, o di una marca che ha cambiato la storia culturale di questo paese, ti rimangono le storie. E io è quello che voglio far passare, no? Scusa, aggiungo soltanto una cosa. Prego, prego. Può essere anche a volte che questa tua opera di, diciamo, di fare a riapprezzare alle persone la pubblicità non serva soltanto alla casalinga di Voghera, ma paradossalmente anche proprio a chi già lavora nella pubblicità e che non vede più in quello che fa un qualcosa in realtà che abbia senso? Allora, si dice sempre che la pubblicità sia un mondo di squali, no? Di coltelli di tutta la schiena. Io faccio bar spot da due anni. Alla fine della prima stagione, durante l'ultima serata, io mi sono preso cinque minuti per ringraziare ovviamente, insomma, la regia, lo Zelig, ma soprattutto ho ringraziato il mondo della pubblicità, no? I miei colleghi, per un motivo molto preciso, perché si dice sempre che la pubblicità sia un mondo di squali, ma in tutte le serate, io faccio una volta al mese, io ho visto colleghi che sono venuti a vedermi, che la volta dopo hanno portato il proprio reparto creativo, si magari lavoravano o insegnavano in qualche scuola, si sono portati 30, 40 studenti, magari dello IED, eccetera. Ho visto colleghi con cui siamo uno contro l'altro durante i pitch per le gare, no? Portarsi clienti, cioè io ho visto colleghi che hanno portato dei clienti a vedermi allo spettacolo. E questa è la dimostrazione che, adesso è un po' tipo Rocky, no? Se io sono cambiato e poi sei cambiato, tutto il mondo può cambiare. No, però è un po' così. Allora, assolutamente, è la magia di ascoltare, vedere e percepire. Se tu sei dell'ambiente, vedi uno come te che racconta delle cose che poi magari te le spendi poi durante una presentazione creativa, gli studenti imparano delle cose, imparano a vedere degli spot di 30, 40 anni fa e reputarli moderni ancora oggi, perché questa è la verità. Cioè, io vedo dei reel, dei TikTok che hanno dei meccanismi creativi che sembrano freschi, nuovi, perché sono semplicemente in verticale e durano 15 secondi, ma sono dei meccanismi che io ho sempre studiato negli spot inglesi degli anni 70, degli anni 80. Non si inventa nulla, si rielabora, no? Quindi assolutamente, la domanda è, cioè, la risposta è si torna a casa e si impara sempre qualcosa. E io stesso imparo un casino, perché ti assicuro che fare la scaletta di una serata di bar spot è molto difficile, non solo perché devi, ok, ogni serata ha un tema diverso, e devi trovare delle storie. La pubblicità, gli spot devono fare da filo conduttore. Quindi arriva un momento in cui io devo decidere che spot mostrare. E all'inizio mi basavo su, beh, questo è bello, ha vinto un leone d'oro a Cannes, beh, questo è bello, lo conoscono tutti, ma quando facevo, no? Facevo vedere magari a mia mamma, a mia mamma, no, poverina. A mio cognato, magari non lo capiva. Perché vi fa ridere questa cosa? Io mica l'ho capito. Perché era troppo cerebrale. Allora lì capisci che quando fai la scaletta e metti degli spot, quello che piace a te come pubblicitario, non è detto che piaccia a una persona. E ti assicuro che quando fai vedere uno spot e la gente non ride e non applaude... Un po' di brividino. Sì, fortunatamente, se posso, non è mai successo. Forse una o due volte, che ho tolto completamente lo spot. Non è mai successo, però che quello è un... Cioè, devo stare lì a capire, ok, ma lo capiranno, ma funziona, strappa la risata, e va bene come finale, finale di uno spettacolo, devi finire in alto. Cioè, la gente deve uscire, deve dire, capito, ho passato due ore, ma ci sarai rimasto... L'ultimo spot che tu fai vedere, l'ultimo argomento in cui parli, è fondamentale. Quindi io passo giorni a pensare, ok, con quale spot chiudo? Con quale storia chiudo? Cioè, diciamo, la pubblicità poi è questa materia veramente ganza. Perché comunque è un po' arte, no? Perché, ce lo diceva anche Berbac, no? È fatta per convincere, non è scienza, per convincere bisogna essere un po' artisti. Però poi, ci ricordiamo, te lo ripeti in un altro estratto, che la pubblicità parla dell'ultimo miglio. Però che cos'è l'ultimo miglio, l'ultimo passo? Ce lo facciamo dire da... Allora, la sfida per noi pubblicitari, ragazzi, è quella dell'ultimo miglio, no? La sfida al supermercato. Cioè, tutta la nostra creatività, tutta la nostra inventiva, alla fine, noi dobbiamo vincere quella sfida lì, no? Tra gli scaffali, i carrelli e i bancali di un supermercato. Noi dobbiamo sedimentare il ricordo, dobbiamo far sì che un consumatore si ricordi, no? Di quel prodotto. Allora, c'è una canzone, meravigliosa, Total Eclipse of the Art, 1983, Bonnie Tyler, simbolo assoluto degli anni Ottanta. Allora, questa canzone, provate, ripete per 15 volte un verso, che è questo, Turn Around, torna indietro. Lo ripete per 15 volte e voi sapete che in pubblicità la reiterazione del messaggio è sinonimo di efficacia. Guardate. Turn Around Every now and then I get a little bit lonely Si parlava, no? Nulla si crea. Questo è un literal video. Turn Around Bene, e dopo tutta questa epicità per uno yogurt e secondo me è qui un po' il vero cortocircuito fra il messaggio poi commerciale, quello di convincimento e poi la parte, diciamo, creativa, artistica, quella del sognatore. Però, domandone è, qui ce ne sono tanti di spot, li vedremo, faremo il nostro piccolo bar spot insieme a te. C'è però, secondo me, un tema. si è perso qualcosa secondo te nel tempo? Cioè, c'è stato non voglio dire Madison è cioè, insomma, non torniamo ai Mad Men però anche più negli ultimi 20-30 anni si è perso qualcosa? Cioè, anche la pubblicità come forma di lavoro di arte, la industria c'ha avuto te che ci lavori da tanto e che soprattutto la studi epoche d'oro epoche un pochino diciamo di metalli meno preziosi e oggi, diciamo, come sta secondo te? Allora, sicuramente è un mondo in continuo mutamento. Tieni presente che io ho cominciato a lavorare nel 99 e già quando il mio primo giorno di lavoro si parlava ah, sono finiti i tempi delle vacche grasse e le vacche grasse erano gli anni 90 neanche gli anni 80 dove c'erano altri tipi di vacche grasse quindi e voi capite io ho fatto proprio la rivoluzione digitale 99-2000 YouTube è arrivato nel 2006 e quindi io ero lì in trincea quando abbiamo dovuto cominciare a imparare un nuovo linguaggio ma avendo studiato molto bene le lezioni precedenti quindi la scrittura pubblicitaria come si scrive una body copy come si scrive come si fa uno script pubblicitario i dialoghi i radiocomunicati io diciamo forse la mia generazione è stata l'ultima che ha potuto come dire mettere le mani tanto in quel mondo lì che è il mondo è sempre stato il mondo della pubblicità e poi è arrivato il digitale e qui voglio dire una cosa siccome importante spesso noi diciamo pubblicitari che lavorano da tanto veniamo accusati di odiare tutto il nuovo perché siamo dei vecchi dei boomer non capiamo il linguaggio io non è che non lo capisco il linguaggio digitale e che penso di essere abbastanza intelligente per capire che il linguaggio digitale che una certa parte delle aziende tecnologiche ti vogliono raccontare non sia pubblicità quindi quello che viene chiamato pubblicità digitale non è pubblicità non è pubblicità perché come diceva Emanuele Pirella la differenza è come un mercato e una libreria al mercato le pere le pesche sono tutte uguali c'è un cartello col prezzo e la gente urla in libreria ogni libro è diverso c'è una copertina che deve essere bella perché deve invogliare nessuno urla anzi lo prendi il libro lo sfogli hai il tempo di la differenza tra vendere un prodotto e farsi comprare ok allora la pubblicità digitale vende un prodotto ma non aiuta a far sì che quel prodotto possa essere comprato perché perché lo stile il linguaggio è quello dei volantini nelle cassette delle lettere è il linguaggio del fuori tutto del prezzo del flash del compra ora compra subito abbonati qui guarda subito due secondi tre secondi poi hai finita l'attenzione non è pubblicità questa la pubblicità deve circondare una marca di io lo chiamo fighisia di fascino perché tutti i prodotti sono sostanzialmente uguali una BMW e una Mercedes sono uguali però una una BMW e una una Mercedes il mio lavoro non è quello di di dirti no che che la BMW costa X che la BMW costa Y che questo c'è il motore quello lo fanno i folderini lo fanno lo fa il venditore di auto è molto più bravo di me lo fa un certo tipo di comunicazione che passa anche dal digitale certo ma per affascinare una persona e farla scegliere tra una BMW e una Mercedes ma ci vuole un po' più di tempo di intelligenza devi raccontargli una storia devi far sì che le due auto siano percepite come ti vede devi dargli un posizionamento e questa è una cosa che richiede tempo non puoi non puoi avere un video digitale dove hai la soglia di attenzione di tre secondi quindi tre secondi devi dire no quindi per me il digitale non è pubblicità è uno strumento che per come si è trasformato può aiutare certe marche a vendere di più non voglio entrare nei numeri c'è un libro bellissimo che vi consiglio di leggere si chiama La Reclame dell'Apocalisse di un pubblicitore che si chiama Marco Carnevale che affronta proprio questo tema quindi non voglio non voglio parlarne io però per me quella roba lì non è pubblicità è occupazione mediatica occupazione di spazio digitale può essere anche un'altra parola forse che non stiamo dicendo ma che in questa dicotomia che tiri te questa opposizione sia anche marketing cioè se elevi e dici la cosa bella è la parte di awareness e forse anche veramente la tv che ancora oggi viene utilizzata poi come posizionamento di awareness di brand il digitale si è portato dietro voi dal cootraining poi tutta una marketizzazione molto molto più accesa del messaggio e quindi fondamentalmente sono venuti fuori come potenza molto più i tecnici rispetto ai creativi i ROI i numeri il sentiment di quel post forse anche a discapito invece di quell'idea di awareness più alta che aveva la creatività prima allora la pubblicità si chiama pubblicità perché deve essere in grado di parlare a tutti cioè deve avere devi riuscire a costruire un messaggio che possa parlare a tutti la pubblicità digitale la tendenza dell'ingegnerizzazione si dice così è quella di parlare a te allora capisci che se io devo scrivere un messaggio per il mondo intero no c'ho un certo tipo di narrazione ma se io devo parlare a te beh è un po' diverso è pubblicità ma secondo me è più o vieni che ti dico una cosa è più gli imbonitori non è per quello che dicevo faccio fatica a vivere come pubblicità è un mezzo con il quale le marche alcune marche anzi alcuni prodotti perché la Nike non è diventata Nike con i banner e con i post cioè la Nike è diventata Nike raccontando delle cose e ha usato il digitale in maniera straordinaria ma non no in con l'ansia la foga di compra ora questa ora faccio parlo proprio a te ehi tu vieni vieni a vedere cioè non funziona così non funziona non puoi convincere una persona a comprare un prodotto dicendo comprami non lo puoi fare io sento che gran parte della comunicazione digitale ti dice comprami e quindi è la pesca strascico no cioè qualcosa tiri su però non costruisci allora io che ho vissuto la rivoluzione digitale non ho vissuto la rivoluzione creativa agli anni 60 ma ho vissuto la rivoluzione digitale all'inizio l'idea di poter ampliare narrazione con dei mini siti dei content digitali che non andavano in televisione ma potevi avere delle web series mi ricordo una web series bellissima per manzotin italiana fatta un'agenzia italiana il manzo scomparso cioè quasi carosello no ma era una cosa poi parliamo di carosello ma era una cosa meravigliosa per la prima volta ho avuto proprio la percezione che usare il mezzo digitale in quel caso era una web series c'era un mini sito adesso non si fanno più c'era un mini sito il manzo scomparso una storia no c'era questo 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 contadino allevatore argentino che aveva perso un manzo e quindi aiutiamo il contadino argentino a ritrovare il manzo e io mi ricordo non mi perdevo una puntata quella era eravamo nel mondo dell'online del digitale ma non era comprami clicca esegui questo prodotto un secondo due secondi ciao ciao e poi passi alla cassa perché voi sapete che basta che qualsiasi cosa quando scrolli compaia per un secondo e google facebook hanno diritto di chiedere a te i soldi quindi un cliente sta pagando perché io secondo lui in un secondo ho visto il suo prodotto capisci che sembra una barzelletta però è così e il libro di marco la reclam nell'apocalisse racconta proprio questo ma all'inizio il digitale era meraviglioso il mondo dell'online era meraviglioso Droga5 so che è venuto Davide a parlare cioè David Droga ha costruito la sua carriera usando il digitale il mondo del web in maniera straordinaria hanno fatto delle campagne che hanno fatto la storia del marketing i banner i pre-roll tutta quella spazzatura digitale per me non è pubblicità va detto che da creativo effettivamente l'upper funnel è sempre più figo rispetto alla parte finale dico proprio anche proprio chi si sporca poi in fondo si sporcano quelli che devono convertire e fare numeri e noi vogliamo più altri io mi sono sporcato per anni scrivendo le body copy degli annunci pubblicitari quindi non è una questione di sporcarsi le mani è che secondo me non è così efficace come vogliono farci credere e soprattutto e qui vengo ai ragazzi giovani io mi sono sporcato le mani scrivendo body copy che mi hanno insegnato a scrivere per la pubblicità no? perché dovevi stare in cinque righe dovevi essere legato al titolo nelle prime parole devi costruire un bel finale cioè quelle cinque righe di body copy anche se non le legge nessuno perché poi si diceva questo tanto non le legge nessuno ma mi hanno insegnato a scrivere mi hanno insegnato a costruire una narrazione microscopica oggi i ragazzi visto che non si fanno più gli annunci e si mettono a scrivere le body copy devono scrivere i post di accompagnamento a il testo di accompagnamento a un post cosa imparano? cioè che qual è qual è la cosa che ti rimane certo imparano a usare quel linguaggio lì ma è sufficiente? secondo me no mamma mia ora mi deprimo no 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 invece secondo me comunque il ragionamento cioè ci porta a dire che l'avanzamento l'avanzamento tecnologico e anche magari anche la cosa che si diceva prima il modificarsi di alcuni processi culturali poi cambia nel bene o nel male le regole del gioco della industria quindi poi le cose a un certo punto bisogna iniziare a farle in una maniera diversa o comunque il mercato chiede cose diverse e tutto ricordarsi però non è tutto uguale magari questo ci può aiutare a me fa molto piacere poi lanciare altri contenuti perché dentro bar spot si direbbe ci sono veramente i pezzi da 90 cioè ci sono delle cose epiche bellissime ma soprattutto ci sono delle cose perché questo è un altro tema in una società qui invece citiamo Girolami dallo scrolling infinito dove la persistenza del contenuto del messaggio sembra sempre con il cappio al collo noi qui ora ci guardiamo un po' di roba che diciamo è abbastanza agé cioè ora non così agé però diciamo è un buon vino o un buon liquore eppure funziona sempre ma così poi ci racconti anche un'altra cosa partiamo ovviamente dallo sport eppure eppure I've been hating you Too long To stop now You're retiring That you want to be free My hate was growing stronger As you became a habit to me Don't make me stop now I hate you I hate you I hate you Don't make me stop now 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 No, 2016 Però, diciamo, 2016 Questo è lo spot con cui Nike ha salutato Kobe Che si ritirava dall'NBA E questo spot Perché è stato fatto così? Perché Kobe Era considerato uno dei giocatori più amati Ma anche più odiati Perché E' da qui il nome Black Mamba Lui era La sua specialità Era quello di Stravolgere la partita Quando mancavano tipo 10 secondi alla fine Era micidiale Al termine E quindi Per le altre squadre Era veramente Un incubo E quindi Era il più odiato dell'NBA E con questo spot Nike l'ha congedato E decida di ritirarsi Visto ora Vedi, la pubblicità Non è soltanto il gesto in sé Vedere uno spot Nel 2016 Su un atleta Con il destino che ha avuto Kobe Visto oggi Ti porta ad altre Cioè io l'ho guardato Non riuscivo a concentrarmi Sulla bellezza della scrittura L'ironia L'autoironia Stavo pensando a Kobe Poi ci sono insomma Pieno di amici Che vanno Che intervengono Roba dell'NBA Cioè C'è tutto Questo spot Non è soltanto la narrazione Non è uno spot Di un brand come Nike Che decide di salutare Un suo testimonio storico Questa è la Ma è Cioè Una coccola tra amici Una pacca sulla spalla Anche uno spaccato È un pezzo di storia Della cultura popolare Cioè Quando Probabilmente lo rivedrò Fra dieci anni Mi creerà di nuovo Altre sensazioni Ecco Per me la pubblicità Quando viene raccontata così È veramente Una gran figata Come dite voi In Toscana Però la domanda invece Un pochino più cattiva è Questa roba Si può fare solo in America? Perché quella A volte per noi È l'altro tema Che cosa ci vieta Non so I budget Il mercato Certo Però voglio dire Quando Baggio O Totti Si sono ritirati Stiamo parlando di icone Più o meno simili Adesso non ricordo Chi fosse lo sponsor Tecnico di Totti O di Baggio Però Uno dei clienti Avrebbe tranquillamente Potuto celebrarlo Non lo si è fatto Perché magari Non c'era l'interesse Non era in strategia Non c'era il budget Per poterlo fare Però non mi sembra una cosa È che ovviamente Ragazzi Gli Stati Uniti È un mercato gigantesco Ricchissimo E quindi È ovvio che La pubblicità lì È davvero un altro livello Ma vi dico soltanto una cosa Nei Stati Uniti Nei telegiornali Nei late show Nelle trasmissioni del mattino La pubblicità Lo spot uscito la sera prima È argomento di conversazione E non è una marchetta È cultura Cioè Ofri Come si dice Io non faccio sempre fatica Quei nomi Ofri Chiamiamola Ofri Parla Di pubblicità Non perché viene pagata In trasmissione Certo c'è gli sponsor Ma come gesto culturale Quindi ne parla Si chiacchiera Si approfondisce Perché Nei Stati Uniti La pubblicità è cultura In Italia Non c'è Questo C'è un momento Nel senso Il nostro Superbowl è diventato Sanremo E c'è un momento In cui anche lì Un po' di attenzione Anche a livello culturale È stata veramente cultura La pubblicità Il carosello Il carosello Ragazzi Il carosello Io ve la devo dire Perché ci tengo troppo Cioè il carosello È una delle cose più moderne Che l'Italia Abbiamo inventato Nel mondo della comunicazione Perché ha di fatto anticipato Il branded content Il brand entertaining Cioè tutta quella roba lì Perché il carosello che cos'era? Caro ascoltatore Io ti regalo Due minuti e quindici secondi Di Mina Ti regalo Uno sketch di Tognazzi Ti regalo un cartone animato Di Maria Rosa Ti regalo Pippo Ti regalo intrattenimento In cambio Mi stai a sentire Trenta secondi Nel finale Di messaggio pubblicitario Cosa c'è di più onesto? Cioè ti regalo un'emozione Un'intrattenimento Completamente slegato dal prodotto Completamente slegato dal prodotto E poi con un trick Cerco di riallacciare Il nodo della conversazione Negli ultimi trenta secondi Succedendoti anche banalmente Che questa cosa Che questa canzone di Mina Questo concertino Del quartetto eccetera È stato offerto Dalle camicie Facis Piuttosto che Dalle marmellate Santa Rosa È il brand del content Secondo me E noi Poi l'abbiamo persa questa cosa Perché è andato via I due minuti e quindici Sono andati via Sono andati trenta secondi In tutto il mondo era così Diciamo che Un certo Arretratezza Culturale Sulla pubblicità italiana È proprio Che mentre noi facevamo Casa Carosello In Stati Uniti A Londra In Inghilterra Insomma Quei trenta secondi Venivano analizzati Quindi C'erano già trenta secondi Di una modernità pazzesca Noi ci siamo arrivati dopo Eccetera eccetera Però intanto Carosello Esisteva E l'abbiamo inventato noi Però è bello Che tu abbia citato Cioè diciamo Anche Carosello Poi l'app Il trenta secondi tv E poi però il branded content Perché c'è una specie di evoluzione Cioè nemmeno evoluzione Sai The Gyar Cioè che a volte le cose ritornano Carosello Ti offriva i due minuti Più il messaggio commerciale Ma il brand Non ti diceva Comprami Ti diceva solo Questo prodotto Te lo regalo io Poi si passa Allo spot Poi si passa A quegli spot Dove magari C'è le storie bellissime E il brand È solo molto Quasi timidamente Una firma Una pennellata Alla fine Poi si ritorna Ai branded content Dove il brand Ti dice Ti regalo Ti trovo Ti racconto delle storie E poi in fondo Ti dico solo E l'ho fatto io Ci sono brand dell'energia Piuttosto che della grande distribuzione Ti raccontano storie O del fashion Che gliene frega nemmeno nulla Perché nulla si crea Nulla si distrugge Ma tutto Si trasforma Si sarebbe felicissimo Si trasforma Ma no ma è così eh Cioè alla fine il carosello si è spacchettato I 30 secondi sono andati in tv I 2 minuti e 15 sono andati su YouTube Però le regole sono sempre quelle Cioè adesso ci sono gli influencer I content creator Cioè io l'invidio Perché allora L'influencer ha un ruolo perché esiste No non fa niente Se non vivere la sua vita Splendida Fantastico Ma chi non vorrebbe essere un influencer Ok Cioè è come se Jerry Scotti Beve il caffè E tu Invece di fare la telepronazione Fai vedere che Jerry Scotti beve il caffè È testimonial Involontario I content creator Sono un'evoluzione Cioè I content creator Sono Jerry Scotti Che Non solo Recita Ma scrive Le sue battute da solo Rimanendo nel loro mondo Cioè Un content creator Ha uno stile E la marca deve adattarsi a quello stile Mentre invece In pubblicità Sono i testimonial Che si adattano Al linguaggio della marca A banalmente A uno script pubblicitario Coi content creator Invece Hanno questa fortuna Che Se io faccio ridere Spaccando mele con la testa E viene un brand da me Probabilmente Io spaccherò quel brand con la testa Perché io faccio quello E quindi Rimango coerente E se tu Lo vuoi è così Se no Vai da un altro Il content creator È È È un'evoluzione dell'influencer Ma se vuoi è Secondo me È dove dovrebbero andare le agenzie Non possono andarci Perché ovviamente Insomma Sono completamente mondi diversi Però Certe volte Quando io Adesso purtroppo Scrivo meno Gli spot Però Io scrivevo Ma non scrivevo per me Io scrivevo per un Un commettente Guardate che È È veramente È difficile immaginare Cioè Quando tu vedi uno spot bello Esiste Perché c'è qualcuno Che ti ha detto Sì ok Uno scrittore Non ha questo problema Sì certo Magari c'è l'editore C'è l'editore Però un cantautore Scrive una canzone Poi magari Non compra nessuno il disco Però ha espresso Esattamente Quello che aveva in testa Questo se vogliamo Questo è il dilemma È un po' la divisione Che sottende un po' L'arte Che non ha quel bisogno Cioè che ha soltanto Un bisogno di espressione Ma i content creator invece Hanno questa fortuna Cioè Possono comunque Rimanere nel loro E sai perché Secondo me I content creator Quelli che hanno davvero successo Riescono diciamo A distanziarsi dagli altri Perché si torna sempre Al purpose Per cui lo fai Cioè il content creator Che lo fa Perché c'ha la passione Di esprimersi Perché gli piace Spaccare la roba O la testa Lo so E lo fa Perché gli piace quella roba Ovviamente si sente Molto di più rispetto Al content creator Che invece adatta Quello che sta facendo Ha una possibilità Di monetizzazione Sì E arriva la domanda È anche una cosa buona però Cioè il format Il brand and content È forse anche un riflusso Del fatto che gli zeta Gli alfa O anche noi Ci siamo un po' rotti le balle Della pubblicità No anzi Di quella che te Non chiami pubblicità Della pungolatura finale Del tirare la giacchetta E vogliamo un po' di intrattenimento Quel do o des della comunicazione Vogliamo che ci sia ridato Cioè prima intratteneteci Dateci qualcosa E poi ok Vi ascolterò per un po' Però forse è un segnale Che non se ne può più Della parte finale Che è solo pungolatura È quello Io seguo un sacco di content creator E a volte Tirano fuori degli sketch Dei meccanismi Che sono veramente Molto molto divertenti Rimanendo nel loro Quindi io assolutamente Non faccio la guerra Io faccio la guerra A quella roba lì Ai banner grossi così Ai posti inutili A tutto quel mondo Che le persone Ma ragazzi Quando state leggendo Un articolo di un giornale Vi si apre un pop up E vi parte un video Ma la prima cosa che fate Non è cercare la X E quando vedi Sei Cinque Quattro Ok Dici dai Ma perché esiste Questa cosa? Cioè perché si compra Uno spazio pubblicitario così? Cioè è assolutamente Anti-umano Come può un essere umano Apprezzare una marca Che entra a gamba tesa Mentre sta leggendo Cosa sta succedendo a Gaza Piuttosto che Chi è arrivato Ultimo a Sanremo E perché O cosa ha fatto Morgan E mi arriva A gamba tesa Un video Un video No? Lo puoi vedere in tv No Te lo fanno vedere A gamba tesa Unskippable No? Con il contatore Che va Perché te lo faccio vedere Cinque secondi Ma quel cliente Che ha comprato Quello spazio Lo sa Quanto lo sto odiando In questo momento Quanto sia irrilevante Il fatto che lui Abbia comprato questa cosa Ai miei occhi È quello che io È quello che io Racconto Spiego Anche ai clienti Cioè io A di là del lavoro Del lavoro Del Del momento Di 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 bar spot Quando faccio le riunioni Con i clienti Io dico più o meno Le stesse cose Che dico Durante gli spettacoli O che sto dicendo Qui adesso E quindi cerco di Contribuire Alla riuscita Di una campagna pubblicitaria Al fatto che La marca possa circondarsi Di fighisia Possa vendere di più Della marca competitor Ma uguale Se ci pensate C'è un verbo Che è presentare Che vale Sia per il mondo Dell'entertaining Sia nel mondo Della pubblicità Cioè io Se ho dimestichezza Come dicono Sul palco È perché Presentare Una campagna pubblicitaria Davanti a una platea L'ho sempre fatto Ed è il momento In cui racconto Un'idea creativa A un cliente E guardate che Spesso Il momento In cui il creativo Racconta La proposta creativa O le proposte creative A un cliente È la cosa Più bella Per quel cliente Da una settimana A quella parte Dopo Capito Riunioni Con le vendite Le cose E arriva il momento Dei creativi Che raccontano La pubblicità Ma sai quanti clienti Mi hanno detto Oh Si toccano la giacca Si stoggono la cravatta Poi magari La presentazione Va male È tutto da rifare Però intanto Ti sei alzato A meno Io faccio così Poi ognuno ha il suo stile Io mi alzo Cerco di Come dire Entrare in empatia Sbaglio apposta Certe cose Perché ho imparato Che quando tu sbagli Una cosa E qualcuno ti corregge Come dire Si È un modo per velocizzare L'empatia Con un cliente Quindi sbaglio Un nome La gente ride O dico una parolaccia Per sbaglio Io non dico parolacce Apposta Nessuno dice parolacce In una riunione A volte io uso Una parolaccia Per creare Quel fulmine A ciel sereno Che sveglia un po' E ti rende tutto Più umano Ed è Spesso apprezzato No Oh Sai quanti clienti Bravo L'avrei voluto dire io No Cioè si crea E poi E poi presenti La tua campagna Questo verbo Presentare Presentare vuol dire Raccontargli il contesto Dove sei partito Perché E poi devi raccontare Magari uno spot O un radio E allora devi Recitare Perché Sì spesso Poi usiamo Insomma La tecnologia Ci aiuta Però per tanto tempo Quando dovevo raccontare Uno spot Dovevo mimarlo Allora mi mettevo Al centro Della sala di riunioni E mimavo Insomma I protagonisti Dello spot Cambiavo voce Lo facevo Perché era un clown Non lo so Stavo cercando di vendere Il prodotto creativo Della mia agenzia Del mio reparto creativo Non è tanto diverso Da quello che succede Su un parco scenico Non hai davanti dei clienti Hai davanti Delle persone Che ti stanno ascoltando Però Il verbo è lo stesso Presentare Visto che hai tirato fuori Un attimo i clienti E secondo me è interessante Perché alla fine Noi stiamo parlando di film Che noi lo diciamo sempre Sono innocenti Nel senso Fino alla prova contraria Il video in sé Il prodotto in sé È innocente Trovi che I CMO di oggi Proprio perché Secondo me Tutti sanno benissimo Che se il banner Ti compare Mentre stai leggendo Di Gaza Un po' Ti rompa le balle Siano però Talmente tanti Pungolati E li tirano talmente Tanto la giacchetta I performance I numeri Il ritorno In qualche modo Che sia più difficile Rispetto a ieri Avere il coraggio Di dire no Nel senso Io devo pensare al brand Devo pensare al benessere del brand Sto alto Non penso alle pungolature O al bannerino Non devo portare numeri a nessuno Allora Sicuramente I CMO Di oggi Sono molto più sgamati Cioè Sono Hanno capito Non si lasciano più Il perché lo facciano Sinceramente Perché alcuni lo facciano ancora E utilizzino questa cosa Onestamente non lo so Quando ne parli Davanti a una birretta È come la famosa storia No Di L'Altizzetto Che racconta La follia Di vedere una donna Che si butta Col paracadute Durante le mestruazioni Cioè Quando Quando vedi L'Altizzetto Che prende per il culo Questa cosa Tutti ridono Però poi C'è qualcuno Che No Che Che ha pensato Che invece era una grande idea Lanciare una col paracadute Hanno testato Quello spot Sì Focus group Hanno fatto un focus group Neuromarketing Allora fatemi capire Perché quando l'Altizzetto Lo prende per il culo Tutti ridono E in pullman Dicono Eh sì Ma in effetti Pubblicità Insomma E poi però Però Intanto quella roba È uscita E ha continuato E se vuoi adesso Dopo che è entrata In una canzone Di Enel Osterietese È diventato quasi Un pezzo di cultura popolare Allora O le persone Sono Come si Un po' Oppure Quindi Insomma Io non lo so Perché Lo continuano a fare Eh Spero Che si faccia sempre meno E che si investa di più In una Come dire Eh In un mondo digitale Sano Eh Che abbia un senso Che veramente Possa contribuire A rendere Famosa Una marca Il motto di Grey È Famously effective Cioè Essere Con la tua idea creativa Portare le marche A essere Famose Io ce l'avrei La risposta È sul Cioè C'è una shit Un problema Se viene da Men in black Quindi c'è Che la gente È molto peggio Delle persone Questa me la gioco Cioè 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 Vabbè Però Torniamo Però il tema Sono le persone Cioè Andiamo anche un po' Il tema sono le persone Perché nel senso Comunque Comunque Vogliamo rigirarla E tu racconto Sulla presentazione Il presentare Il poi Alla fine Diciamocelo Dover convincere Altre persone A comprare L'idea creativa Per poi farla diventare Un prodotto Che poi debba Convincere altre persone A comprare Un prodotto Un po' Un sistema Di scatole cinese Che al mercato Mio padre comprova Esatto Però io vorrei far vedere Un altro spot Perché quando si parla Di persone Poi si parla anche Di valori Poi si parla anche Di questi grandi Noi siamo ex giornalisti Ma con storico Di tantissimi libri Di sociologia Dei processi culturali Quindi C'è un po' I grandi temi Quando si parlava Prima è stato Citato il walk Però prima di Capire cos'è Proviamo questo If we show emotion We're called dramatic If we want to play Against men We're nuts And if we dream Of equal opportunity Delusional When we stand For something We're unhinged It's super It's gonna need To calm down When we're too good There's something Wrong with us And if we get angry We're hysterical Or rational Or just being crazy But A woman running A marathon Was crazy Officials tried To pull her off the course A woman boxing Was crazy A woman dunking Crazy Coaching an NBA team Crazy A woman competing In a hijab Changing her sport Landing a double cork 1080 Or winning 23 grand slams Having a baby And then coming back For more Crazy 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 And crazy So if they want to call you crazy Fine Show them what crazy can do Allora Premessa Non lo stiamo facendo Per la Nike Però Sono pezzetto Ma perché anche questo È un estratto Da Da Un altro tipo Di bar spot Che poi Ti faccio raccontare Ma soprattutto È un Ci sono due temi Grossi Qui Te li lancio Cioè Lo sport E il rapporto Della pubblicità Con Le donne E la narrazione Delle donne La seconda È stato uno dei temi Anche più forti Forse prima ancora Della questione Della sostenibilità Cioè del C'è bisogno di Narrare una società Diversa Narrare un modo Forse narrare la società Vera Soprattutto Però E che tanti brand Hanno sentito il bisogno Di fare Facendo cose Buone Cose meno buone Insomma Se ne può Se ne può discutere E poi invece Il rapporto Dello sport Con Con gli uomini Con la società È tutto Un gran basket Di persone Ma Sul tema Walk Per farla invece secca I brand Hanno fatto Fanno E fanno bene Anche nel futuro A occuparsene Cioè a discutere Di queste cose qui A fare quella roba Che si dice Prendere posizione O alla fine Bisogna solo vendere prodotti Bisognerebbe Occuparsi di altro Un po' provocatoria Però No Allora Parto sempre Da I pubblicitari Creativi Io dico sempre Che noi siamo Un po' come Nel finale Di L'uomo ragno Peter Parker Stan Lee Nella prima storia Dell'uomo ragno L'uomo ragno Peter Parker Per colpa Del suo atteggiamento Aveva causato La morte Del zio Ben E lui Lui L'ultima vignetta Si allontana In questa New York Molto triste E Stan Lee Scrive Una frase Che poi diventa Il mantra Dell'universo Marvel Cioè da un grande potere Derivano grandi responsabilità E io penso Che Noi creativi Pubblicitari E quindi automaticamente Anche le marche Abbiamo Siamo un po' come Peter Parker No Abbiamo un grande potere Che deriva E quindi abbiamo La grande responsabilità Che deriva Dal nostro grande potere Qual è il nostro potere Parlare alle persone Cioè Le cose Che Un'agenzia Un creativo Scrive Per un cliente Che lo approva Che mette soldi E si gira uno spot Che diventa quello Che abbiamo appena visto Ha una potenza Che Io non posso Sottovalutare Quindi Devo Cercare Di usare Questo potere Per migliorare Per quanto Possa essere Possibile E per quanto Possa essere Accettabile Per quel brand Per quella marca Senza Uscire dal seminato Perché se no Si scende nel ridicolo Migliorare Il nostro mondo La nostra società Ognuno Un pezzo alla volta Ok Io quello che posso fare È Capire che Nike Si può permettere Questo tipo di narrazione Che è giusto Che faccia Questo tipo di narrazione Quello che posso fare io È proporre a Nike Uno script Come questo Questo Mi ricordo benissimo Quella puntata Del bar spot televisivo Avevo Teresa Mannino Come ospite Era una puntata Dedicata al ruolo Della donna Nella pubblicità sportiva E Teresa Che è una comica Dopo aver visto Questo spot Mi disse Bellissimo Però hai visto Come c'è sempre Il logo In ogni scena C'è sempre il logo Allora Questa Come dire Ingenuità Teresa Mannino Di lavoro Fa la comica Non fa la pubblicitaria Però aveva notato Questa cosa Ma esattamente Quello che Noi lavoriamo Per questo Noi lavoriamo Affinché Nike Possa diventare Figa Famosa Grazie A video Come questi E nel farlo Cercare Di migliorare In questo caso La figura femminile All'interno Del mondo sportivo Poi vabbè Sul ruolo della donna Nella pubblicità In generale Ci sono state Delle cose Veramente Terrificanti Io ho fatto una serata Di bar spot Dedicato proprio a questo Cercando di far ridere Con degli annunci Sessisti Che ovviamente Io usavo Per Scardinarli Per distruggerli Ma Mi sono reso conto Che i madman Degli anni cinquanta Hanno fatto delle cose Nei confronti Della ruola Della donna Che veramente Visti oggi Sono terrificanti E Storia anche questa Non è che La storia Non è sempre Non sono accadute Sempre cose meravigliose Non è che Nella storia Tutti hanno inventato La penicillina C'è stato anche Il nazismo Quindi Nel percorso storico Ci stanno Delle cadute Beh quella è stata Una caduta Sapere che Sono state realizzate Robe del genere Ti aiuta A non rifarle A starci lontano Ad avere un equilibrio E a fare Queste cose qua Che però Attenzione Non tutte le marche Possono permettersi Perché sennò Diventa Non dico Greenwashing Ma dico proprio Copiare Fare una cosa Che non puoi permetterti Magari puoi permetterti Altro E allora Studiamo insieme Cosa puoi permetterti Di fare Però seguire Pedissequamente Quello che fanno Gli altri Sempre comunque Se diventa trend E quindi diventa Copia di un trend Ci sta che perda Un po' Del suo potere Assolutamente Perché diventa A tratti ridicolo L'altra però Era sulla questione Dello sport Perché comunque Anche te In Bar Spot Fai puntate Appuntamenti Tematici E lo sport Oltre a essere Come abbiamo visto Una fucina Di capolavori Cioè Dell'advertising È anche uno Forse Una delle cose Che Non voglio dire Più unisce Però dove tutti Ci ritroviamo Un pezzettino Cioè Alla fine Un brand di sport Che fa Comunque collegato Al mondo dello sport Se la gioca Un po' meglio Cioè Sempre Anche la cosa Dicevi te Nike ce la fa Perché Comunque parla di questo Mentre se fosse Un'azienda Che fa Un po' delle bulloni Non se lo potrebbe permettere Perché proprio Non riesce A avere nessun Aggancio Umano Evocativo Di condiviso Di Sogno Fatica E tutto Cioè I brand dovrebbero Anche capire Che cosa sono A che pezzo di mondo Parlano E quindi puoi capire Anche Vabbè Allora Lo sport Ragazzi È quasi un mondo A parte Ha una liturgia Ha una narrazione Ha un'estetica Ha un'epica Che sembra Fatta apposta Per le marche Cioè Storie di eroi Meravigliosi Di sacrificio Cioè Sport Però c'è un motivo Adesso vi devo raccontare Perché Io sono partito Con lo sport Bar spot E nasce Come trasmissione Televisiva Per un canale Che non esiste più Si chiama Zeli TV Il canale ufficiale Di Zeli So che c'è su Amazon A pagamento Ci sono ancora Tutte le puntate E Gino e Michele Sono Insomma Gli autori storici Di Zeli Ma anche Di tante altre Trasmissioni Drive-in Cuore Avevano bisogno Di una Trasmissione Di 30 minuti A costo zero Che parlasse Di sport Perché Zeli TV Era su Le frequenze Dove devi Mandare in onda Un Quanto 60% Di contenuti Sportivi Se no ti tolgono Le frequenze Non mi chiedere perché Ma la televisione È fatta così E allora E io dissi Vabbè dai Mi piace l'idea Di fare una Trasmissione televisiva Sulla pubblicità Anche perché Non esiste E quindi Presentai Il primo format Di bar spot A quelli di Zeli Che è quello Gli spezzoni Che avete visto E come funzionava C'era un Era tipo Un late show C'era un bancone Io ero al centro Gino e Michele Come opinionisti E poi un ospite Sempre diverso Teresa Mannino Luca Carboni Gazzoli abbiamo visto Gianluca Gianluca Prima del basement Prima del basement In purezza In purezza Quante cose Avrei imparato da te No No Vabbè Ma è stato Con Gianluca Poi Gianluca è stato ospite Anche allo Zeli Live E insomma E c'era questa trasmissione E ragazzi Io Non avevo nessuno Nella redazione Chiamavo Costruivo la scaletta Decidevo Non so Oggi si parla Ogni puntata Si parla di uno sport diverso Quindi Corsa e maratone Chi sarebbe l'ospite Più adatto Per chiacchierare Linus Quindi Si doveva contattare Linus E io intanto Dovevo costruire la scaletta Perché Bar Spot Funzionava così Ospite Che ha una storia di sport Da raccontare E si usava la pubblicità Per commentarla Ma soprattutto Per instaurare Una conversazione Intorno A come Linus Corre A come Gianluca Vive il basket A come Aldo e Giovanni E Giacomo Giacomo Gioca una tennis Perché era questa la cosa Per costruire la scaletta E mandare uno spot In televisione Non ero live Ero in tv Io Componevo il numero Voglio Nike Allora Chiamo Nike Salve Sono Francesco Bozza Lavoro Alla redazione di Zelig Perché se dici Sei un creativo Già click Allora sentite Stiamo facendo una Trasmissione televisiva E vorremmo Mandare in onda Dei vostri contenuti Io ho detto Non posso fare questa cosa Se non ho Nike E Adidas A bordo Cioè Perché La metà dei contenuti Che volevo far vedere Erano loro E quindi Io mi dico Ma dobbiamo pagare qualcosa? Prima domanda Vedi la pubblicità No? Dovete Quindi dobbiamo pagare No È tutto gratis Nel senso che Mettiamo una cornice Capiamo bene Cioè È evidente Che non è Uno slot pubblicitario È un contenuto editoriale E Io chiamavo i clienti E le risposte Erano meravigliose Perché quelli di Nike Mi dissero Tutto quello che è su YouTube Appartiene all'umanità L'importante è che Non venga usato A scopo Un determinatore Offensivo O per vendere cose Che non No Racconto la storia E quanto è figo Lo spot che avete fatto Ah ok Va bene Liberatoria Ma io Parlavo con clienti Che mi dicevano E non dobbiamo E non dobbiamo pagare niente Ma invece di questo Vi possiamo mandare L'ultimo Che abbiamo fatto No guarda Questo Io L'ho scelto Perché è bello Ah Quello che avete fatto adesso Permettete Non è Questa qua Quindi io Mi terrei il primo Se non No va bene Va bene Ma se volete Avevo dei clienti Che Assolutamente no E poi Si sono pentiti Mi hanno chiamato Dicendo Ma non sapevamo Perché non ci hai messo Perché mi hai detto di no Perché io non posso Andare in televisione Senza una liberatoria Sono riuscito A fatica A costruire 12 puntate E mi ha aiutato tantissimo E lì ho cominciato A capire All'interno Del mondo Dello sport Perché noi ci limitavamo A parlare di sport Ogni puntata Era uno sport Diverso Raccontato da Un personaggio Diverso Quindi Cambiavano Cambiavano ovviamente Le tipologie Di sport E lì mi sono accorto Che lo sport È veramente Un mondo Dove Cioè Poi Poi farci una trasmissione Serenamente Avrei potuto fare Una seconda stagione Andando avanti Con gli sport Perché c'era Tantissimo materiale Tutto bello Tutto bello Ma con Gianluca C'eravamo Gianluca Gazzoli E lui mi diceva Che tutti quegli spot Sul basket Perché con lui Abbiamo fatto il basket Lui li conosceva Perché Perché chi gioca basket Li usa Per gasarsi Prima di scendere in campo E io ho detto Ma Gianluca Veramente Sì Cioè i ragazzini Anche quando vado A fare gli eventi Con i cellulari Si guardano Lo spot Di Kobe O di Lebron James Per gasarsi Poi vanno in campo Quindi li conosceva Tutti Gianluca Anche questo Comunque Pubblicità Poi è arrivato il covid Zeri tv E fallita E mi hanno proposto Così mi racconto Mi hanno proposto Di trasferire live Quella roba lì Di bar spot Ma in un teatro Quindi via lo sport Cioè lo sport È uno degli argomenti Ma ogni serata È diversa E così è nato Bar spot Allora Siamo Diciamo Abbiamo passato Il giro di bova dell'ora Quindi a un certo punto Come si dice qui Sa bozza Però Deve durare un'ora Deve durare Quanto deve durare Quanto deve durare Se continuiamo a far vedere Spot Secondo me di sport Possiamo durare No io c'erano un altro Era un altro Che abbiamo ritagliato Dai contenuti Francesco e Ciai Condiviso E anche questo Torniamo ancora un pochino Più indietro A me ha fatto morire Dalle risate Si tagliava Con boss Ci guardiamo quello E poi insomma Mettiamo su un ipotetico Take on message Finale Ok Who are you The milkman Do you have a sidekick No A nemesis A what A bad guy I'm a people person Have you been fighting crime long I don't fight crime What do you fight Wheat bones A never ending supply of milk And chocolate milk Want strong bones The calcium in milk Helps make your bones strong Questo spot L'ho fatto Era nella serata Dedicata a Che mi sarebbe piaciuta Serata allozzeri Dedicata I fumetti Diciamo La cultura Nerd Nella pubblicità Ed è Uno spettacolo Che ho rifatto Tagliato in un'ora Dal comicon di Napoli Davanti a 2.000 persone Un posto meraviglioso Non mi ero mai esibito Davanti a tutta quella gente E quando hanno visto questo spot La gente rideva Ma soprattutto rideva Pensando a come L'avanzamento del CGI Degli effetti speciali Abbia giovato Agli supereroi stessi Perché oggi Guardate Iron Man Avete visto Sono molto più figli Iron Man Sembrava un master Un master of universe Cioè oggi Oggi Proprio l'estetica Di supereroi È cambiata tantissimo Dopo il primo film Insomma la saga Del Marvel Cinematic Universe Ma all'inizio degli anni 90 Erano così E quindi insomma Era molto divertente Però il meccanismo fa ridere Cioè l'idea Che i supereroi Facciano il colloquio di lavoro A un lattaio Per farlo entrare Tra i supereroi Che difendono L'umanità È una bella idea È una bella idea Io volevo Cioè diciamo Se vi va Provare a fare una riflessione finale Su questo Che è A metà fra la marconia E la letteratura Come si dice In letteratura scientifica O giuridica Cioè Questo lavoro Che ti hai fatto Con Barspot Ma anche questo Un po' invito Che rifai Cioè di Studiare Riguardare È solo per avere La strizzatina al cuore Il O imparare O Per la creatività Ricombinatoria Perché poi da lì Cambiando qualche pezzo Cioè Secondo te comunque Questa roba E riguardarla Ci fa bene La industria Tutti quelli che ci lavorano Dovremmo anche tutti Un po' Ripartire Da lì O prendersi un momento Al di là dell'algoritmo Della piattaforma E tutto Per Per guardarsi Un Barspot Venirti a trovare O anche Magari Leggersi Un buon libro Un rillone Di qualche Best of Cannes Datato O più O più recente Ma allora Sicuramente sì No Ovvio Che ti dico così Però ti dico Anche un'altra cosa Che I contenuti pubblicitari Quindi gli spot Un po' come questi Magari non esattamente questo Magari non sottotitolati Sottotitoli fanno tanto Cioè Tradurre gli spot È importante E lo faccio io Cioè Nel senso Da copywriter Mi piace Adattare Quel tipo di linguaggio Soprattutto gli spot americani Ma sto divagando Il contenuto pubblicitario È uno dei contenuti Più Presenti E più Virali Più Scerati Da I ragazzi di TikTok E di Instagram E dei Reel Cioè Se ci pensate Io Vedo Un sacco di spot Che No Rimbalzano Quindi È la prova Che Quello tipo di meccanismo Magari Non A un ragazzo Gli interessa Zero Chi lo ha firmato Che Però Vanno in purezza Vedono Una storiella Divertente E gli basta Quello Però È sintomatico Che i contenuti Pubblicitari Sono Dei contenuti Che Che ritrovi tantissimo Anche Nella Nel Mentre scrolli Io Mi imbatto Tantissimo E Questo vuol dire Che c'è qualcosa Dentro Di positivo Che anche i ragazzi Giovani capiscono Quindi Secondo me Avere Avere Sapere Che esiste Uno spettacolo Un'idea Come Brasspot Secondo me È una cosa bella Da industry Poi che sia io a farlo Che sia un altro Spero di farlo io E te Torni sui ragazzi Giustamente Ma io invece Torno ai tuoi colleghi Che portano I clienti A vederlo Perché mi torna Anche molto Il concetto Che la fame Viene mangiando E se Il semo di oggi Citandoti È molto più Scafato Su tutta la parte Tecnica Forse qualche volta Fra noi Diciamo David Droga Diciamo Che figata E forse invece A loro farebbe bene Rivedere più volte Cose strabelle Perché poi Ve ne voglia di farlo Cioè oggettivamente Quando uno fa il pitch E fa una Vedere una reference Prima anche Della propria idea Alta Figa Super bella Un po' di gola A tutti piacerebbe Dire Anch'io voglio fare Una cosa figa La bellezza Porta bellezza L'intelligenza Porta intelligenza Quindi Tutti i miei colleghi Quando presentano Una campagna Una nuova Idea creativa A un cliente Hanno delle reference Esattamente perché Per quello che dicevi tu Perché Prima di tutto Un cliente Vede Che anche La follia Più folle È stata fatta Porta risultati È bella Fa ridere Fa commuovere E quindi Intanto Non sono solo Ok Loro hanno fatto questo E voi cosa volete farmi fare A me Alla mia marca E allora capisci Che hai Fatto una piccola breccia Come Come Fuga d'alcatra Piano piano Col piccone No Vai Oppure portare Una volta Quando Cannes Era Veramente Il festival Della creatività Adesso è Il festival Del mondo Della comunicazione Quindi sei molto aperto Ma una volta A Cannes Ci andavano i creativi Era un festival Di creativi Con le ciabatte Con E però Portavi il tuo cliente Magari il cliente Un po' giovane Oppure il tuo amico Oppure un cliente Che volevi Come dire Volevi coccolare Te lo portavi con te E lo portavi Dentro al palais E gli facevi vedere Le cose Che A quei tempi Andavano sul Megaschermo Del cinema Adesso non è più così È chiaro che Tu ti gasavi Ma anche il tuo cliente Si gasava Venire a vedere Il bar spot Alla fine Fa quell'effetto Lì E poi Ragazzi Ci si prende Pochissimo sul serio Posso dire delle cose Che non potrei mai dire In una riunione Perché il palcoscenico Ha quella magia lì E vi assicuro Che La gente ride È proprio Una risata liberatoria Proprio risata liberatoria Bene Allora Grazie A voi Chiudiamo con La bellezza porta bellezza Perché questo Magari ci porta Anche un po' più di soldi Perché anche quelli Non fanno male Grazie Francesco Per essere passato Insomma qui Da Vidence Ci vediamo Alla prossima puntata Alla prossima puntata Ciao